Sei solo tu o aspettiamo qualcun altro? Scusi, come ha detto? Le tue mani. Se lavorassi davvero agli elettrodotti non avresti mani così. Deduco che stiamo aspettando qualcun altro. Mani bene in vista. Adesso ci facciamo una passeggiatina, io e te. Perso quel sub nero. Ci siamo. Prova a fare di testa tua e ti ammazzo, chiaro? Bene. Che cazzo succede? Dai, andiamo. Niente testimoni.